La scelta di un settore di attività è un passo importante durante la prima configurazione di Ranking Coach. Selezionando il tuo settore di attività, darai una visione del tuo business e di ciò che offri. In base alle informazioni aziendali che fornisci, il sistema è in grado di suggerirti parole chiave, directory online particolari e altri suggerimenti SEO che si adattano al tuo scopo di business. Quando crei il tuo progetto, ti verrà chiesto di aggiungere il tuo settore di attività nella barra di ricerca e selezionare il suggerimento che corrisponde meglio alla tua attività. Per maggiori informazioni su questa procedura, ti consiglio di visionare il tutorial dedicato alla configurazione iniziale del servizio. Il settore di attività di Ranking Coach può essere modificato in qualunque momento e in questo video ti mostrerò nel dettaglio la procedura. Una volta effettuato l'accesso alla dashboard, vai alla scheda generale, clicca su Attività e scorri fino in fondo alla pagina. Nel box grafico Settore commerciale, posiziona il cursore nell'area indicata e digita il settore in cui operi. Per eliminare quelli esistenti ti basterà selezionarli singolarmente e cliccare sull'icona indicata. Una volta apportate le modifiche desiderate, salvali!